ok nintendari benvenuti prima di tutto andate nel canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella per avere tutte quante le notifiche su quando usciranno i nuovissimi video ma ora andiamo bello a tutti ragazzi sono ritornato nintendari e ora dato che questo video vi è piaciuto moltissimo e ringrazio tutti quelli che le è piaciuto questo video ora andiamo avanti e mi dice di creare il mio personaggio uomo madonna madonna oh non ce n'è neanche uno beh questo dai è l'unico voce 1 e non parla voce 2 voce 3 voce 1 questo termine della creazione del personaggio è il nome teo teo va bene dai kunio me e ottieni Aspettate un attimo perché mettiamo la N grande Ok A posto Sì Ok il personaggio è così per ora Dopo mi sembra che potremo cambiare Dici Nintendo Ah vedete dovete voi Scacciare Sembrato a tutti sono davvero tutti bruttissimi personaggi Guardate c'ho proprio una faccia Va Va bene De mandarla Ok Ok ci sta addestrando Ok E adesso ne abbiamo un'altra di qua Beh il paesaggio devo dirvi che è bello Però qua sto girando sempre allo stesso punto Ah no sta portandoci da un'altra parte Sembrava Ragazzi vi ripeto che Se volete Dei giochi scrivetelo nei commenti Se volete dei gameplay Noi tutti quelli che vorrete Noi li facciamo Adesso dovrà dirci Ok ci siamo Ecco il gigante Che è finto per l'addestramento Sì No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ne abbiamo altri. Questi sono un po' di addestramenti. Grazie. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Penso che questo video per ora ci fermiamo e Nintendari ci vediamo alla prossima con il prossimo e esclusivo video domani. Ma come domani? No! Ve lo diremo. Ciao! Grazie a tutti.